Siamo in diretta alle 7 del mattino sul canale 17 per sfogliare e commentare insieme a voi i giornali che abbiamo con noi sul nostro touchscreen, giornali che tra poco sfoglieremo insieme con le prime pagine e i titoli delle notizie più importanti. Come di consueto andiamo a vedere il santo del giorno, il santo di oggi è Santa Cuneconda ma è anche Santiziano, il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà al 18.02. Uno sguardo al tempo come facciamo tutte le mattine, oggi mercoledì il bollettino della protezione civile delle Marche prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori minimi, stazionari oppure in lieve aumento i massimi, le temperature massime. Per la giornata di domani, giovedì 4 di marzo, cielo sereno poco nuvoloso, aumento della copertura nel pomeriggio, mentre venerdì cambia il tempo con precipitazioni anche sulla costa e il limite delle nevicate è attorno ai 1.400 metri. Allora i vaccini, i vaccini in primo piano sul Corriere Adriatico di Zio di Pesaro, vaccini ai docenti, esordio caos, titolo d'apertura, il siero al centro Monaldi a Pesaro arriva in ritardo, poi salta il collegamento di un PC per l'accettazione. Assembramenti invece fuori e dentro la sede, insostenibili il doppio carico di insegnanti e over 80. Guida il nuovo DPCM in vigore da sabato, la nostra vita fino a Pasqua compresa, mentre sotto precipita e muore, mentre si arrampica sul Monte Nerone, è un fanese rissa tra i ragazzini con rapina finale, 5 persone denunciate, poi a Pesaro vendite a domicilio, ci siamo inventati un nuovo business di spalle. Invece le marche dimenticate, le barricate 11 anni dopo, solo così dai un segnale. Parlano coloro i parlamentari, soprattutto di sinistra, Magistrelli, Amati e Agostini, che nel 2009 scesero sui binari per protestare dello scarso interesse dell'amministratore delegato di Trenitalia, all'epoca era Moretti, e dicono loro solo così dai un segnale. Oggi praticamente nel filone delle marche condannate all'oblio, ormai a sue fatte, al peso specifico pari a zero nell'orizzonte nazionale, c'è questo racconto sul Corriere di Oggi, di quelli che le barricate le hanno fatte, le hanno provate a fare. Dal Carlino di Pesaro invece vola dalla parete rocciosa, morto, tragedia a Piobbico, la vittima è Lorenzo Molo, alpinista di 68 anni, è precipitato per 15 metri, a centropagine invece la fotonotizia, vaccini ancora caos, code, ritardi e polemiche al centro Monaldi, e addio alle nozze, alle nozze in chiese, i matrimoni civili prendono in largo, il sorpasso però già avvenuto prima del Covid, e a Montegrimano c'è la proposta di accettare lo Sputnik, il vaccino russo, e dunque lo Sputnik non solo ai frontalieri, sapete San Marino ha scelto proprio il vaccino di Putin. Ancona finisce in zona rossa, invece Macerata rischiano 12 comuni, la situazione in provincia di Pesaro, noi resistiamo, ma il trend dei contagi preoccupa. La sentenza Beffa invece, sempre dalla prima del Carlino, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice Banca Marche si poteva salvare. È iniziato Sanremo, il liceo in città è ora il festival, è la notte dei gemelli dell'Ai. Sotto la notizia dall'Università di Urbino, Maura Magrini al vertice dell'Erdis, il CDA ufficializzato ieri in Regione, l'ex assessore dice gran lavoro da fare, poi calcio di Serie C, Vise Alma a doppia sfida per la salvezza, Biancorossi in casa con la Feralpi Salò nel ricordo di Ghiandoni, e poi il Fano che invece incontra Bolzano. Andiamo sul Carlino di Ancona, scuole chiuse, ecco perché dice il sindaco Mancinelli che spiega la sua scelta alla città, soprattutto ai cittadini ufficiali. La provincia è in zona rossa, ordinanza della Regione da oggi stoppa tutte le attività, ma materne, elementari e prime medie sono aperte, dunque sono in classe. La provincia di Ancona è in lockdown per 72 ore con scuole a Singhiozzo, l'ordinanza di acquaroli da oggi in vigore fino a venerdì, in attesa del nuovo DPCM, chiusi negozi, ristoranti e bar, anche macerate, un'osservata speciale. Dunque vediamo il riquadro che riguarda l'ordinanza della Regione, per quanto riguarda la zona rossa in provincia di Ancona, da oggi alle 8 fino alla mezzanotte di venerdì, chiusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, consentito asporto e consegna a domicilio, e poi l'asporto fino alle 22 per tutti gli altri. Mentre i negozi sono chiusi, chiusi anche centri estetici, sale giochi, bingo, musei, mostre, sospese le competizioni sportive e le attività nei centri sportivi. Attenzione invece agli spostamenti in tutta la provincia di Ancona, salvo esigenze di lavoro, di emergenza e di sanità. È consentito un solo spostamento al giorno, tra le 5 e alle 10, verso una sola abitazione all'interno del comune, massimo due persone anche con un minore o con minori che hanno meno di 14 anni, oppure hanno un disabile o persone non autosufficienti che siano però della stessa famiglia. Restano aperti invece anche in zona rossa negozi alimentari, edicoli, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Questa è l'unica novità, diciamo parrucchieri e barbieri, perché con il lockdown in zona rossa eravamo abituati alla chiusura di barbiere e parrucchieri. Qui c'è stata un'apertura. L'ancoretano chiude il mese con 200 casi positivi al giorno, ma c'era tese sulla soglia critica, l'andamento diverso dei contagi nelle 5 province marchigiane, mentre il TAR ha respinto il ricorso antididattica a distanza, priorità alla scuola, protesta in regione, insegnanti, studenti e genitori uniti per far riaprire le scuole. Dal Carlino di Pesaro invece, pagina 2, medici di famiglia e siero Covid, continua lo scontro in regione, non ci si accorda sulla platea a cui somministrare le dosi, i dottori sono disponibili a operare negli ambulatori e anche a domicilio, ma vogliono essere presenti anche nei punti vaccinali, ma Ancona, l'assessore Saltamartini, dice di no. Mentre il sindaco Mancinelli spiega, pagina 2 del Carlino di Ancona, il perché ha chiuso le scuole a Torrette, dice la Mancinelli, ci sono anche 30 ambulanze in fila. In diretta Facebook ha risposto ai dubbi dei cittadini, i dati del lunedì ci hanno mostrato che la diffusione del virus è esplosa e da Pesaro la situazione invece comincia a preoccupare. Noi proviamo a resistere, dicono i sanitari, ma il trend preoccupa. La provincia di Pesaro Urbino ha una media settimanale di 167 casi, ogni 100 mila abitanti la più bassa delle marche, però è in netta crescita. Quindi, insomma, vedete un po', ieri i decessi sono stati 11, tra cui un uomo e una donna di 81 anni, entrambi residenti in città. Sotto l'intervista a Ceriscioli, ex governatore, che proprio esattamente un anno fa aveva iniziato prevedendo, anticipando, diciamo, che la sua bravura è stata proprio questa. forse perché è un professore di matematica, forse perché è una dote naturale, ma, insomma, fatto sta che l'ex governatore, al quale molte critiche ha avuto, molti lo hanno criticato, soprattutto nella prima fase, dove tutti cercavamo di, come dire, far finta di niente, invece lui aveva letto e previsto esattamente quello che sarebbe successo. E adesso cosa dice? A distanza di un anno, con un mondo completamente cambiato, chiudere il ritardo, è mancato, le chiusure sono state in ritardo ed è mancato dunque il coraggio. È battuto il virus perché Ceriscioli è stato, ha contratto il virus, è finito pure all'ospedale, poi ne è uscito fuori e quindi lo ha battuto. Torna a parlare di questa gestione delle emergenze e dice che i tecnici della regione avevano capito in anticipo. E allora, leggiamo soltanto un pezzettino di questa intervista, dove Ceriscioli dice credo che sia mancato il coraggio. Luca Ceriscioli commenta così la reazione della Giunta regionale nella battaglia contro il virus. È una modalità usata troppe volte, si ragiona a cadute e non in anticipo sulle cose, dice l'ex Presidente appena tornato al lavoro. Sarebbe dire, si è sprecata l'occasione che la struttura della sanità marchigiana aveva colto, individuando con grande anticipo la variante inglese. Si è trovata ad inizio gennaio a Loreto e poi per alcune settimane non si è fatto niente per limitarne la diffusione. Si sono chiusi in realtà i confini della provincia di Ancona. Non è stato, risponde, un intervento da zona rossa perché all'interno del confine provinciale non si è fatto niente. Mi pare che abbiate scritto di un lazzaretto in zona gialla. Insomma, si è gongolato troppo in sostanza e quando, come dicevamo l'altro giorno, quando si sono visti i primi casi di variante inglese a Loreto si è tentato un tracciamento, pareva che fossero circoscritti, che fossero stati tutti rintracciati, poi in realtà non è stato così. E adesso, insomma, speriamo, ci auguriamo che questa cosa rimanga perlomeno nella provincia di Ancona circoscritta e non contagile, provincia vicina. Noi abbiamo visto, insomma, la provincia di Piesolbino ancora in questo momento è sotto la soglia di emergenza, ma il trend, cioè la previsione, ci dice che anche qui purtroppo aumenteranno i casi. Vaccini ai profi, invece. C'è l'altro problema della somministrazione del vaccino alla celletta, cioè in una zona, in un ambiente che molti ieri hanno giudicato, anche nel nostro telegiornale, intervistate le persone, insomma, un luogo poco idoneo consono a questo tipo di attività. Ritardi, code e rischio assembramenti. Al secondo tentativo il personale scolastico, che si è mescolato poi agli over 80, è riuscito a ricevere le prime dosi al Centro Sociale Monaldi, ma l'organizzazione ha mostrato diverse falle. Le fiale sono arrivate in ritardo, poi anche un computer rotto, attese fino ad un'ora e mezzo. Che, insomma, se uno ha una certa età, un'ora e mezzo si può fare, ma quando uno supera già gli 80 anni, tenere delle persone fuori per un'ora, un'ora e mezzo, parcheggiate lì all'aperto, non è che sia poi il massimo. Allora, operazione Alvia, anche per oltre mille persone, da oggi magistrati e vigili del fuoco, poi altri, tutti gli altri, la polizia fa da sola, sono cinque i no-vax. coloro che non vogliono vaccinarsi. Le persone che presentano patologie, oppure che hanno un'età superiore ai 66 anni, potranno optare per il vaccino Pfizer o Moderna. Ultimo dettaglio, cinque agenti della Municipale di Pesaro, su 110, hanno detto no alla vaccinazione. Ecco, quindi queste persone poi o ci ripenseranno, come poi è successo all'inizio con gli operatori sanitari, oppure non si sa, vedremo. Sempre più bambini invece con il Covid. Questa è l'altra notizia che vi segnalo sulla pagina del Corriere Adriatico. Siamo a pagina 29 del Corriere di Ancona. Sempre più bambini con il Covid preoccupa il disagio psicologico. Al Salesi ci sono quattro casi. Cazzato che il primario di pediatria dice più contagi in famiglia, ma giusto chiudere le scuole. Fino a una decina di giorni fa era Covid free. Ma all'improvviso anche l'ospedale Salesi ha risentito dell'ondata pandemica che ha travolto Ancone Provincia. E dunque la settimana è cominciata con cinque positive ricoverate al pediatrico, una donna in gravidanza e quattro bambini scesi ieri a tre a seguito delle dimissioni di due piccoli pazienti dalla sonda di pediatria diretta appunto dal dottor Salvatore Cazzato. I due bambini che seguiamo nel nostro reparto sono sotto controllo, spiega il primario. Dal punto di vista clinico presentano sintomi modesti, ma li tratteremo ancora perché vogliamo monitorarli nella loro evoluzione per escludere alterazioni laboratoristiche. Dunque il Covid possiamo dire che non conosce età e colpisce sempre di più i bambini, cosa di cui non si parlava affatto un anno fa quando tutto è iniziato. Quindi questo a giustificare il fatto che il virus è effettivamente probabilmente cambiato e si sta modificando. qualcuno quando ha provato a dirlo qualche mese dopo verso maggio-giugno è stato crocifisso tra gli esperti. Tutti sostenevano che il virus non era cambiato, non era mutato. In realtà invece è mutato e come? E come abbiamo visto per motivi di sopravvivenza del virus. Il virus morde, siamo sulla pagina di Iesi Fabriano, vedete anche qua, leggo queste pagine perché così abbiamo modo di capire come sta andando un po' in giro per la nostra regione. E siccome è un virus che corre, è un virus che si sposta, ma si sposta non con le sue gambe, si sposta con le nostre gambe, e allora è bene capire un po' dove, anche perché poi anche noi ci spostiamo, e quindi capire cosa succede nelle varie province, nelle varie città per evitare magari di andarci e quindi rimanere un po' distanti. Il virus morde, allarme rosso contagi, occhio tra i ragazzi, l'incidenza è alta, preoccupano i numeri anche nel Fabrianese, SOS a Serra Sanquirico e Cerretto Desi. Qui dicono stiamo peggiorando, lo dice anche il sindaco Grillini. Mentre da Senigallia una mamma incinta è positiva al Covid, crisi respiratoria, corsa all'ospedale, il figlio di due anni e mezzo accudito dalla Caritas, l'allarme, i nostri operatori rischiano, non sono vaccinati. I contagi sono in crescita, però le scuole restano aperte, il sindaco di Senigallia Olivetti incontra le autorità sanitarie, molte parrocchie hanno sospeso anche il catechismo. E allora queste due pagine, invece ve le faccio vedere un attimo, tutte e due insieme, eccole qua, così tanto per farvi capire a colpo d'occhio come si presenta questa mattina a pagina 4 e 5 il Corriere Adriatico. È un inserto interessante, se volete insomma molte cose le conosciamo già, però nei DPCM, soprattutto visto che è cambiato il Premier, i DPCM hanno sempre qualche dettaglio, qualche cosa che è magari diversa rispetto a lui, però per essere informati il Corriere Adriatico questa mattina giustamente ha pubblicato due pagine, una pagina, due pagine su cosa fare e cosa non fare fino a martedì di Pasqua, i divieti nella zona gialla, i divieti nella zona arancione e i divieti nella zona rossa. Andiamo adesso invece sulla pagina 22 del Corriere Adriatico, da Fano i miei coetanei si sentono indenni, parla un giovane, Marco Pranzolo, vedete nella fotografia, rappresentante d'istituto del Nolfi e parla sulle trasgressioni Covid dei giovani, però dice i miei coetanei, quindi i miei ragazzi si sentono indenni, ma gli adulti non danno l'esempio. Questo è il titolo, la didattica a distanza aumenta il desiderio di incontrarsi, dopo il bar si va nelle case private, quindi quando alle 18 i bar non possono dare più nulla, questi si riuniscono nelle case private. Andiamo adesso invece sulla pagina 20 di Fano del Corriere, per la cronaca, cade mentre si arrampica sulla roccia, un volo fatale della parete per 25 metri, Lorenzo Molo, 68 anni, fanese, muore nel massiccio del Nerone, una coppia sente il tonfo, esperto e appassionato di montagna, attendeva un amico, inutili soccorsi subito allertati. Asciutto e atletico, saliva sopra il vuoto come un ragno, shock tra gli amici del CAI, il presidente Mezzino dice aveva un talento, per tutti è stato un grande dolore. Alpinista, precipita per 15 metri e muore, ecco la fotografia della vittima, di Lorenzo Molo, sposato, una figlia, di Fano, l'incidente è venuto al Fosso dell'Eremo, in località Piobbico. Rissa tra ragazzini invece con rapina finale, in azione due bande rivali, cinque persone denunciate, in via Sonnino, a Pesaro, botte e insulti, poi spunta un coltello e sparisce un cellulare, tutti i minori tranne un diciottenne. Poi il processo fa un favore a un amico, un diciottenne che finisce in tribunale, ha venduto al compro oro i gioielli che il minore ha rubato alla madre, assolto. Netti, Querele invece Rossi, ma il dibattimento è rinviato a maggio, gli avvocati del consigliere regionale hanno evocato l'incompetenza territoriale. La ciclabile Fanurbino invece sul Carlino di Fano, linea dura contro la Regione, la maggioranza si oppone al progetto di Baldelli, ma l'assessore annuncia una possibile riattivazione anche della Fabriano Pergola Fermignano. Il PD ha in previsione anche una raccolta firma cartacea e altre iniziative. Poi vai, questo è l'annuncio, che c'è questo superjet che servirà agli imprenditori per raggiungere Milano, Roma o anche altre città europee. Vai con il superjet, però da Ancona e non da Fano, perché Fano non ha neanche la struttura per far partire o atterrare questi jet. La cosa strana, secondo anche l'articolo del resto del Carlino, è che l'annuncio non l'ha dato lo scalo di Falconara, ma l'ha dato quello fanese. Quindi insomma una sorta di incongruenza. Però dietro c'è Massimo Berloni, per questo probabilmente che è stato dato questo annuncio dalla scuola di volo Eagles Aviation, dove tra i piloti del jet c'è anche Davide Cecchini, ma anche perché dietro a questo aereo, la società che lo ha, di cui è proprietario, a capo c'è l'imprenditore Massimo Berloni. E c'è anche il professionista Paolo Tanoni, che erano già titolari di un altro areomobile, però ad elica, che aveva come base Fano. E quindi insomma ecco qui spiegato il motivo, perché poi è finito anche sul giornale. Da pagina 21 invece del Corriere Adriatico, feste dello sport o parrocchie per rilanciare le nostre attività, parla Giacomo Mattioli, eletto nuovo Presidente regionale del CSI, dobbiamo programmare il post-Covid. Mentre sulla pagina della Valmetauro, Mattatoio, siamo a Colle al Metauro, Mattatoio, fondi insufficienti, i macellatori chiedono aiuto, proteste per i miasmi, la cooperativa segnala l'esigenza di 500 mila euro per la manutenzione. E poi rinviato di sei giorni il funerale di Guarducci, l'esequio è già fissato per oggi, attesi i parenti infatti da lontano. Nel funerale di Paolo Guarducci, morto 82 anni, ricoverato per Covid a Pesero, con patologie pregresse, è stato rinviato la prossima settimana, martedì 9 marzo. Da Urbino, invece, Erdis, cambio al vertice, Maura Magrini, presidente, la neoeletta ha già annunciato che convocherà in tempi brevi il Consiglio di Amministrazione alla guida dell'ente regionale per il diritto allo studio. L'ex assessore al bilancio dice ci sarà tanto da lavorare. Invece da Pergola, banda larga al via Cablaggio in quattro mesi, il capogruppo Marchetti illustra il piano di Open Fiber, alcune zone coperte, anche attraverso i punti radio. È morto, invece, Renato Righi, ex sindaco di San Lorenzo, il ricordo riconoscente del primo cittadino, che dice ha lasciato molte opere. Elezioni, invece, accolle al Metauro, spunta Cappellini, lui dice ci sto pensando, nella corsa sindaco si affaccia il paladino della fusione, lavoro ad una lista civica senza i soliti noti né persone da fuori. Sul biodigestore, invece, ora non è il momento di Aset, parla il presidente di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini, a proposito della partecipazione dell'azienda fanese nella realizzazione dell'impianto a Talacchio, e poi da Senigallia minaccia l'ex finanzatina, finisce nei guai, questo è un processo, oltre al ragazzo, oggi 23enne, all'epoca ne aveva 19 di anni, lei invece era minorenne, rischia di andare davanti al giudice anche suo padre, che aveva aggredito i familiari della minorenne, della ragazzina. La storia era finita nel 2016, subito erano iniziati i problemi, appunto, per la minorenne. Strage di Coninaldo e carenze del locale, i 18 in 18 rischiano il processo, l'udienza è fissata al 24 di maggio. Lo Sport e il Fano cerca l'impresa nella Tanna del Sud Tirol, trasferta difficile a casa di un big del campionato, destro però non molla, la Visse invece tenta la scalata della Feralpi, di Donato e un altro ostacolo sulla via della Salvezza, mentre la Samb si rialza in piedi e a Perugia pareggia 1-1. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna, vi ricordo gli appuntamenti sul nostro canale, sul canale 17 di Fano TV, alle 9 e un quarto di questa mattina, l'udienza di Papa Francesco, del Santo Padre, poi questa sera, anzi oggi pomeriggio, alle 16 e 30, esplorare i confini, un ciclo di conferenze organizzato dal Circolo Bianchini, da Tolomeo ai Buchi Neri, con il professor Filippo Martelli, si parlerà di onde gravitazionali e poi questa sera uno speciale, alle ore 21, dove vi presenteremo il piano strategico per il turismo della città di Fano. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a questa sera. Grazie.